Com'è sono strani quegli antichi ricordi che invadono l'anima senza che possiamo disfarcene. Questo è così vecchio, così vecchio che non saprei capire come mai sia rimasto tanto vivo e tenace nel mio animo. Dopo ho visto tante di quelle cose sinistre, commoventi o terribili, che mi meraviglio di non poter passare un giorno, un giorno solo, senza che la figura della vecchia clochette non si disegni dinnanzi ai miei occhi quali la conobbi, in altri anni, tanto tempo fa, quando avevo dieci o dodici anni. Era una vecchia cucitrice che veniva una volta la settimana, tutti i martedì, dai miei genitori ad accomodare la biancheria. I miei genitori abitavano una di quelle case di campagna chiamate castelli e che sono semplicemente delle case antiche dal tetto acuto, dalle quali dipendono quattro o cinque fattorie raggruppate attorno ad esse. Il villaggio sorgeva a poche centinaia di metri. Un grosso villaggio, un borgo, anzi, addossato quasi alla chiesa, una chiesa in mattoni rossi, anneriti dal tempo. Tutti i martedì, dunque, la clochette arrivava tra le sei e mezzo e le sette del mattino e saliva subito nella stanza della biancheria dove si metteva al lavoro. Era una donna alta, magra, baffuta, o meglio pelosa, perché aveva tutta la faccia coperta di peli, una peluria incredibile che cresceva a mazzetti, a ciuffi arricciati, come seminata da un pazzo su quel gran volto di gendarme in gonnella. Ne aveva sul naso, sotto il naso, attorno al naso, sul mento, sulle guance e le sopracciglia stranamente folte e lunghe, tutte grigie, spesse e ispide, parevano un paio di baffi piantati là per sbaglio. Zoppicava, ma non come zoppicano i soliti storpi, ma come una nave all'ancora. Quando appoggiava sulla gamba buona il suo grande corpo ossuto e storto, sembrava prenderlo slancio per salire su un'onda mostruosa. Poi tutto a un tratto si tuffava giù come per sparire in un abisso, si affondava nel suolo. Il suo modo di camminare faceva proprio venire l'idea di una tempesta, con quel dondolio continuo e la sua testa, sempre coperta da un'enorme cuffia bianca, i cui nastri le ondeggiavano sulla schiena, sembrava che ad ogni movimento che faceva attraversasse l'orizzonte dal nord al sud e dal sud al nord. Io adoravo la vecchia clochette. Appena alzato salivo nel guardaroba dove la trovavo a cucire, con uno scaldino sotto i piedi. Appena arrivavo mi costringeva a prendere quello scaldapiedi e a sedermi ci sopra, per non raffreddarmi in quella vasta stanza fredda sotto il tetto. «Questo fa scorrere il sangue dalla gola», diceva. Mi raccontava delle storie, pur continuando a rammendare la biancheria con le sue lunghe dita storte ma agili, i suoi occhi dietro gli occhiali dai vetri che ingrandivano, poiché l'età aveva indebolito la sua vista, mi parevano enormi, stranamente profondi, doppi. Lei aveva, da quel che posso ricordare, che sconvolgeva il mio cuore di fanciullo, un'anima generosa di povera donna. Vedeva le cose con ingenuità e semplicità. Mi raccontava gli avvenimenti del borgo, la storia di una mucca fuggita dalla stalla che avevano trovato un mattino davanti al mulino di Prosper Malet, intenta a guardare quelle ali di legno che giravano, o la storia di un uovo scoperto sul campanile della chiesa senza che si venisse mai a sapere chi era la gallina che l'aveva deposto, e quella del cane di Jean-Jean Pilat, che era andato a riprendere, a dieci leghe dal villaggio, i calzoni del suo padrone rubati da un vagabondo mentre erano stesi ad asciugare davanti alla porta. Mi raccontava queste avventure ingenue in un modo che assumevano nella mia mente proporzioni di drammi indimenticabili, di poemi grandiosi e pieni di mistero, tanto che gli ingegnosi racconti inventati dai poeti che mia madre mi narrava la sera non avevano neanche lontanamente il sapore, l'efficacia, la forza dei racconti della contadina. Ora, un martedì dopo aver trascorso tutta la mattinata ad ascoltare la Clochette, vogli, più tardi, risalire da lei nel pomeriggio, dopo essere stato a cogliere nocciole col domestico, nel bosco di Allé, dietro il cascinale di Noir-Pré. Ricordo tutti questi particolari in modo preciso, come fossero accaduti ieri. Ebbene, aprendo la porta della sua stanza, vidi la vecchia cucitrice distesa per terra, accanto alla sedia, con la testa sul pavimento, le braccia aperte e in una mano teneva ancora l'ago e nell'altra una delle mie camice. Una gamba, calzata di bleu, la più lunga senza dubbio, era stesa sotto la sedia e le lenti, che erano rotolate lontano da lei, luccicavano vicino alla parete. Io scappai urlando. Venne gente e seppi di lì a qualche minuto che Clochette era morta. Non saprai esprimere l'emozione profonda, straziante, terribile che lacerò il mio cuore di bambino. Discesi a brevi passi nel salotto ed andai a nascondermi in un angolo buio, in una grande vecchia poltrona dove mingino chi hai a piangere. Vi rimasi, credo, molto a lungo perché il buio mi sorprese in quella posizione. All'improvviso entrò qualcuno con una lampada, ma non venne visto e udì mio padre e mia madre di scorrere col medico che riconobbi dalla voce. Era stato chiamato subito e prese a spiegare le cause dell'incidente. Del resto io non capì nulla. Poi sedette e accettò un bicchierino di liquore e un biscotto. Lui parlava sempre e ciò che disse allora mi resterò sempre scolpito, nell'animo, fino alla morte. Credo di poter ripetere quasi alla lettera le sue stesse parole. «Ah», diceva, povera donna, «è stata lei qui la mia prima cliente. Si ruppe la gamba il giorno del mio arrivo e non avevo avuto nemmeno il tempo di lavarmi le mani, appena disceso dalla dirigenza, quando vennero a cercarmi d'urgenza perché il caso era grave, gravissimo. Aveva 17 anni ed era una ragazza bellissima, splendida. «Chi l'avrebbe creduto?» Quanto alla sua storia, io non l'ho mai raccontata e nessuno l'ha mai saputa, all'infuori di me e di un'altra persona che ormai non è più in paese. Ora che è morta, posso essere meno discreto. In quel tempo si era da poco stabilito nel borgo un giovane aiuto del maestro elementare che aveva un bel viso e un bel corpo atletico. Tutte le ragazze gli correvano dietro. Lui faceva lo sdegnoso avendo anche una gran paura del maestro di scuola, suo superiore, il vecchio Grabou che non tutte le mattine si svegliava di buon umore. Il vecchio Grabou teneva già in casa come cucitrice la bella Hortense che è morta qui da voi e che più tardi battezzarono Clochette dopo l'incidente capitatole. L'aiuto maestro distinse subito fra le altre la bella ragazza che certo fu lusingata di essere scelta da quel conquistatore irresistibile. Il fatto sta che lei lo amò e che lui ottenne un primo convegno nel granaio della scuola alla fine di un giorno in cui lei sarebbe andata a cuscire non appena sopraggiunta la notte. Lei fece dunque finta di tornarsene a casa ma invece di scendere la scala uscendo dalla casa dei Grabou la salì e andò a nascondersi nel fieno per aspettare il suo innamorato. Lui la raggiunse ben presto e già cominciava a dirle delle paroline dolci quando la porta del granaio si aprì di nuovo e il maestro apparve e domandò cosa fate lassù Sigisberg sostenendo che sarebbe stato preso in trappola il giovane maestro sbigottito rispose stupidamente ero salito a riposarmi un po' sul fieno signor Grabou quel granaio era molto grande molto ampio completamente buio e Sigisberg spingeva verso il fondo la ragazza spaventata ripetendo andate laggiù nascondetevi io perderò il mio posto andate via nascondetevi il maestro udendo a bisbigliare ripete non siete solo mi pare ma sì signor Grabou ma no vi sento parlare vi giuro che sono solo signor Grabou è quello che vedremo concluse il vecchio e chiudendo l'uscio a doppia mandata discese a prendere una candela allora il giovane un vile come ce n'è tanti perse la testa e diventando a un tratto furioso cominciò a ripetere alla ragazza ma nasconditi non deve trovarti mi getterai sul lastrico per tutta la vita rovinerai la mia carriera nasconditi dunque bisogna che non ti trovi si udì la chiave a girare di nuovo nella toppa Hortense corse alla finestra che dava sulla strada l'aprì bruscamente poi disse con voce bassa e risoluta verrai a raccogliermi quando se ne sarà andato e si gettò nel vuoto papà Grabou non trovò nessuno e li discese molto sorpreso un quarto d'ora dopo Sigisper veniva da me e mi raccontava l'accaduto la ragazza giaceva ai piedi del muro senza potersi alzare essendo caduta dal secondo piano andai con lui sul posto pioveva di rotto e io condussi a casa mia quella disgraziata che aveva la gamba destra rotta in tre punti con le ossa penetrate nella carne non si lamentava e diceva soltanto con un'ammirabile rassegnazione sono punita molto punita chiamai aiuto e feci venire ai parenti dell'operaia ai quali raccontai che una vettura che correva all'impazzata l'aveva investita davanti alla mia porta estorpiata mi credettero e la polizia cercò in vano per un mese l'autore dell'incidente ecco io dico che quella donna fu un'eroina al pari di quelle che hanno compiuto grandi azioni storiche fu quello il suo solo amore ed è morta vergine ah una martire un'anima nobile una santa se non avessi avuto sempre per lei una vera ammirazione non vi avrei raccontato questa storia che non voglio mai raccontare a nessuno mentre era ancora in vita voi capite perché il medico tacque la mamma piangeva il papà disse qualcosa che non riuscì a capire poi se ne andarono io rimasi accucciato nella mia poltrona a singhiozzare mentre udivo uno strano rumore di passi pesanti e di colpi sulla scala portavano via il corpo di clochette a singhiozzare